è stata una partita pazza ricca di capovolgimenti di fronte occasioni da una parte dall'altra ti chiedo quali sono le tue impressioni stata una pessima partita da parte nostra troppi errori troppi errori in tutto in tutte le fasi sia difensiva sia offensiva sia individuale in fase offensiva e difensiva abbiamo sbagliato troppo troppissimo forse il gol sbagliato 2 contro 0 è l'emblema della partita quindi credo sia giusta la sconfitta quindi lavoreremo sui i tantissimi errori fatti tanti errori sì ma almeno dalla nostra posizione la sensazione che le aquile volevano a tutti i costi questi tre punti l'atteggiamento comunque può essere un punto da cui ripartire sì sicuramente però se l'atteggiamento poi deve diventare un freno deve diventare una voglio dire causa di errori perché noi oggi lo sapevamo noi vincendo oggi diciamo la salvezza era quasi cosa certa se non essere riuscito a farlo vuol dire che magari quella quella troppa voglia di strafare ci ha portato a sbagliare più che a far bene e ripeto gli avversari hanno vinto meritamente loro avevano una scarsissima rotazione quindi complimenti a loro noi non siamo stati bravi ad approfittarne grazie mille mister rafa dami una sconfitta in casa per le aquile molfette una sconfitta che brucia per come arrivata come è andata la partita quali sono le tue sensazioni brucia una sconfitta pesante perché stavamo giocando bene abbiamo sbagliato troppe troppe occasioni di gol tanti tanti tre contro uno e poi il calcio così no se tu non vai la rimette la palla dentro l'altra squadra si approfitta dal punto di vista personale ti chiedo che che sapore ha avuto questa partita come la giudichi e come è andata vede io sono entrato in campo dato il massimo come sempre faccio sbagliato un paio di gol lì che poi vado a casa con la testa un po così però io do sempre il massimo penso che tutta la squadra ha dato il massimo oggi peccato la sconfitta no un risultato negativo che comunque non pregiudica l'obiettivo salvezza le aquile molfette devono ancora continuare a credere alla salvezza perché manca davvero poco sì sì dobbiamo credere fino alla fine abbiamo ancora 4 4 5 partite da giocare e come ho detto prima daremo il massimo fino alla fine del campionato per per raggiungere il nostro obiettivo grazie mille e complimenti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti